Buonasera Maestro E' una bella esperienza lavorare con questi giovani Anche se lei è giovanissimo Giovanissimo? Grazie Ma non tanto giovanissimo Ma lavorare con questi ragazzi è una apprendizia meravigliosa Veramente Sono bravi come musicista Ma bravi più bravi ancora come persone E' una apprendizia fantastica Dopo vogliamo dare un grande complimenti Per tutti i ragazzi Per il suono per la prima parte Per la musica E per il lavoro che fa il maestro Riccardo Ormari Che adesso è un grande come direttore Ma il futuro Sarà più grande ancora Un grande direttore E fa un lavoro con la banda Giovanile incredibile Un complimento e un grande applauso Per il maestro Riccardo Ormari Impressionante Grazie E poi il cuore Questo è fantastico Fantastico proietto Grande proietto Che è la banda regionale Che è il presidente regionale Piemonte Che è Ezio Che è una grande come persona anche Ma è il cuore del proietto Grazie Grazie Ezio Grande applauso Io la lascio dirigere Lei ha parlato di grande cuore Abbiamo scoperto anche da due poche frasi Che è un grande cuore E anche il suo Buona direzione A voi da scoperto A te Il microfono Con il tuo collega Prego Grazie 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 Grazie